Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei parlarvi del capitolo 950 di One Piece, spiegare cos'è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Questo capitolo potrebbe sembrare piatto e calmo a primo impatto, ma credetemi, nasconde veramente tantissimi spunti di riflessione ed ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. La mini avventura su Capone Gagbege e Churma continua, a quanto pare sua moglie Chiffon vorrebbe rivedere sua sorella Lola, ricordiamo che l'ultima volta che abbiamo visto Lola è stata in una mini avventura e si trovava a Water 7, quindi molto probabilmente Capone per far felice sua moglie dovrebbe ritornare nel paradiso, ovvero nella prima parte della Grand Line, per riuscire a trovare così Lola, però io non so ancora come possano riuscire a trovarla, così a caso. Forse Chiffon possiede una sua viver card? Comunque sia non ci resta che scoprirlo vedendo il continuo della mini avventura. Il capitolo inizia con la proposta di alleanza da parte di Rufy per Kid, ma purtroppo Eustace rifiuta, dato che non può più fidarsi di nessuno, proprio perché i suoi due ex alleati lo hanno tradito senza battere Ciglio, e rifiutando ciò decide di partire con Killer alla ricerca della sua ciurma. Io speravo che si alleasse sinceramente, ma molto probabilmente lo rivedremo direttamente nella guerra, però ora son curioso di sapere dove vorrebbe andare, forse la sua ciurma è riuscita a fuggire, oppure sono stati anche loro catturati, e si trovano in qualche altro posto simile ad Udon. Inoltre sono sicuro che Kid si prenderà la sua vendetta verso Hawkins e Abu, perché a quanto pare non è riuscito ancora a dimenticare il tradimento che ha subito. Continuando, tutti i detenuti vengono a sapere che Rufy in realtà è un pirata, e quindi non riescono più a fidarsi di quest'ultimo, dato che è uguale a Kaido, ma ovviamente Raizo fa capire che il mondo è vario ed esistono persone di tutti i tipi, ma come se non bastasse, i prigionieri non credono nemmeno che Raizo e gli altri siano stati mandati di vent'anni nel futuro, quindi la situazione si fa critica e serve qualcuno per aggiustare il tutto. Ma nel frattempo Tama rivede Rufy, mentre Chopper sta cercando di creare una medicina per guarire la malattia. Momonosuke si congratula con Rufy, ma Cappello di Paya inizia ad insultarlo e lo incita ad andare lì fuori, dato che tutti stanno aspettando ed infatti, appena tutti i detenuti vedono il piccolo Kotsuki, si inginocchiano e pendono tutti dalle sue labbra. Quindi, come vi avevo detto, mancava solo Momonosuke per far sì che tutti ci credano, e per di più, raccontando tutta la storia, i prigionieri potrebbero riporre fiducia in un pirata come Rufy. Nel medesimo istante, Kawamatsu decide di partire, dato che ci sono dei luoghi che vorrebbe visitare. Sicuramente vorrà andare a cercare Iori per vedere se sia ancora viva o no. Forse è per questo che non ha ancora detto niente a Momonosuke. La scena si sposta a Kuri, dove Ashura Doji mostra a Kinemone e una Rashi, un luogo dove sono situate centinaia e centinaia di lapidi, e racconta loro che, dieci anni prima della loro venuta, i fedeli al clan Kotsuki avevano perso la pazienza nell'aspettare vent'anni, e quindi decisero di attaccare comunque Onigashima per provare almeno a lottare per la loro libertà. Ovviamente Ashura non addò con loro, dato che credeva in Kinemone e nelle parole di Lady Toki. Purtroppo vennero tutti uccisi, e questo lo si evince guardando tutte quelle lapidi. Ovviamente, dopo tutto ciò, la domanda è sorta spontanea. Perché proprio vent'anni? Perché Toki ha deciso di far viaggiare Momonosuke e compagni per vent'anni nel futuro? Forse, per via della sua profezia? O perché sapeva che in quell'anno fosse arrivato qualcuno che avrebbe potuto salvare il Wano Kuni? Perché se non ci pensate, il personaggio di Toki è ancora più misterioso di Oden stesso. E soprattutto, sono troppo curioso di sapere da quale anno provenga. Perché se venisse proprio dai cento anni del grande vuoto, e lì, forse, qualcuno abbia predetto ciò che sta per accadere a Wano, e di conseguenza abbia commissionato a Toki di far sì che la profezia diventi vera, perché proprio in quello stesso anno ci sarebbe stato qualcuno che riuscirà nell'intento, e così facendo, riuscirà, in un futuro non troppo lontano, a svelare tutto ciò che accadde in quei cento anni. Forse è tutto collegato, o forse no. Ovviamente, per ora possiamo solo fare delle ipotesi. Continuando, Ashura Doji decide di passare dalla parte di Kinemon, e di partecipare con tutti i suoi uomini alla rivolta che avverrà tra otto giorni, e per di più fa capire a quest'ultimo che sono passati ben vent'anni, e loro, in questi anni, sono diventati ancora più potenti rispetto alla volpe di fuoco. La scena si sposta in una foresta vicino alla capitale, nella regione di Akumai, dove Zoro è riuscito a sconfiggere Fujin, se non sbaglio, ma a quanto pare non è stato l'unico ad essere sconfitto, ma distesi a suolo possiamo notare altri ninja. Non penso che siano tutti gli Oniwabanshu, forse erano dei ninja di secondo ordine, e che c'era solo Fujin come Oniwabanshu, ma fatto sta che Zoro è davvero troppo potente, pur possedendo solo due spade ed una ferita. Lo spadaccino ovviamente è lì per difendere Iori, perché se la facesse morire non riuscirebbe più a guardare in faccia Momonosuke. Inoltre, la figlia di Oden conosce bene la strada per il Ponte dei Banditi, dove Zoro dovrà riuscire a sconfiggere Gyukimaru e riprendersi la sua spada. Ricordiamo che il collezionista d'armi è stato creato prendendo spunto da Benkei, e se Zoro riuscisse a sconfiggerlo, molto probabilmente diventerebbe un suo discepolo, proprio come nella storia di Benkei, ma di questo già ne parlare nel video sul capitolo 938. Continuando, Zoro è deciso nel vendicare Tonoyasu e che vorrebbe togliere di mezzo Orochi, ma Iori gli dice che vorrebbe che sia lei ad ucciderlo, forse lo spadaccino lotterà contro Orochi e forse la soella di Momonosuke gli darà il colpo di grazia. La scena si sposta alla capitale dei fiori, dove rivediamo Hawkins e D.S. Drake, e a quanto pare Lo ha scelto una delle due opzioni che vi dissi l'altra volta, ovvero, o che si farà catturare o che tradira cappello di paglia, e il chirurgo della morte sembrerebbe aver scelto la prima opzione. Difatti lo vediamo con le braccia conserte, sanguinante e con ai polsi delle manette, che sicuramente sono di agalmatolite. Vi avevo detto io che il mago lo aveva messo alle strette e che non poteva fare altro che scegliere una di quelle opzioni citate poco fa, quindi è probabile che Hawkins continui a torturarlo per far spifferare tutto il piano, ma potrebbe anche mettere in pericolo i sottoposti di Lou, nel senso che, dato che Hawkins possiede le loro vite, gli basta pugnalarsi al cuore per ucciderli, e chissà se lo riuscirebbe a resistere. Ed il capitolo ovviamente finisce qui. Vi avevo detto che questo capitolo è pieno zeppo di spunti di riflessione, però sono sicuro di non averli detti tutti. Qualcosa mi sarà sfuggito sicuramente. Comunque sia non vedo l'ora di leggere il prossimo capitolo, soprattutto per la situazione di Trafalgar Law. Questo video è finito, seguitemi anche su Instagram se vi va, troverete i link in descrizione e nel primo commento. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pumpling, link in descrizione e usato il codice ILGUN91 avrete diritto al 15% di sconto. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra a riguardo. Non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy e noi ci sentiamo in un prossimo video.